Impara il danese mentre dormi. Impara le frasi e le parole più importanti di danese mentre dormi. Livello intermedio Sono innamorato. Jeg er forelsket. Buon rientro a casa. Kom godt hjem. Puoi confermare la data? Kan du bekræfte datoren? C'è stato un cambiamento di opinione. Non mi piaccio noi pub. Sono in vacanza. Serviti pure. Come ti chiami? Hvad hedder du? Sono venuto con la mia famiglia. Jeg kom her med min famiglia. Tutto il giorno. Hele dagen. Quanto costa questo? Hvor meget costa det her? è stato stressante. Det var stressende. Dovrai attraversare dei binari. Du kommer til at gå over nogle jernbaneskinner. Ne terrò conto. Jeg vil overveje det. Abbiamo un sacco di tempo. Vi har masser of tid. Così è pratico. Det er praktisk. Hai dei cavi di avviamento. Har du et startkabel? Dove sei andato a scuola? Hvor gik du i scuola? Quanto zucchero vuoi? Vieni qui. Kom her. Scusa per il ritardo. Beklager forsikkelsen. Ti trovo bene. Du ser godt ud. Og due sorelle. Jeg har to søstre. In un'ora. Om en time. Gjocchi a basket. Spiller du basket? Pagherò i biljetti. Jeg betaler for biljetterne. Studi inglese. Studerer du engelsk? Non hanno nulla in comune. De har intet til fælles. In che campo lavori? Hvad arbeider du med? Cosa hai detto? Hvad sagde du? Vorresti del vino? Kunne du tænke dig noget vin? Sei arrivato. Er du ankommet? Attenti al cane. Pas på hunden. Ha una bella macchina. Han har en fin bil. Vai da quella parte. Gå den vej. Cosa hai studiato? Hvad studeret du? Ha fatto. Slet ikke. Hai qualche snack? Har du nogen snacks? Ecco il mio codice di prenotazione. Her er mit booking nummer. Questo non funziona. Det her virker ikke. È stato un caso. Det var et tilfælde. Che c'è che non va? Hvad er da galt? Canto in un coro. Jeg synger i et cor. La cucina è ancora aperta. Servier du stadig mad? Ho già mangiato. Jeg har allerede spist. Og il jet lag. Jeg har jet lag. È tempo di riflettere. Det er på tide at tænke sig om. Che cosa vuoi fare? Hvad har du lyst til at lave? È troppo tardi. Deve essere un errore. Det må være un fejltagelse. Lui l'ha tradita. Han var henne utro. Grazie mille. Mange tak. È la vita. Sådan è livet. Fa molto freddo oggi. Det è molto freddo oggi. Non l'ho mai fatto prima. Det har jeg aldrig gjort før. Calma. Rolig nu. Sto scherzando. Jeg laver bare sjov. Sono di buon humore. Jeg er i godt humør. Suoni qualche strumento? Spiller du et instrument? Buonanotte. Godennat. Non dire sciocchezze. Lad være med at evle. Lavoro in proprio. Jeg arbejder som selvstændig. Posso prendere in prestito la tua penna? Må jeg låne din kuglepen? Cosa hai fatto ieri? Hvad lavede du i går? Sono una casalinga. Stai iniziando a piovere. Det begynder at regne. Ho 32 anni. Un anno fa. For et år siden. Mi sto formando per diventare ingeniere. Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. Sono smemorato. Jeg er glem som. Questa mattina. I morges. Questo è molto importante. Det her er meget vigtigt. Ho speso tutto. Jeg har brugt det hele. Dovrei andarmene. Sono un tirocinante. Jeg er praktikant. A presto. Vi ses snart. Dove sei diretto. Hvor flyver du hen? Mi piace meditare. Jeg kan godt lide at meditere. Torna no subito. De kommer tilbage om lidt. Il mio orologio è stato rubato. Mit ur è blevet stjålet. è stato una mia invenzione. Det var min opfindelse. Puoi ripetere per favore. Er du sød at gentage det? Quante persone. Hvor mange mennesker. Amo il cinema. Jeg elsker at gå i biografen. Stai bene. Er du okay? Non è durato molto. Det varerde ikke længe. Spenni la luce. Slok lyset. Non fumo. Jeg ryger ikke. Era davvero delizioso. Det var lækkert. Non ho abbastanza soldi. Jeg har ikke nok penge. Forse. Måske. Il libro è sopra il tavolo. Bogen er på bordet. Sono un po' fuori allenamento. Jeg er lidt ude af træning. Quali sono le possibilità? Hvad er chancen? Non mollare mai. Giv aldri op. Cosa preferisci? Hvad foretrækker du? Da dove vieni? Hvor kommer du fra? Accendi l'auto. Start bilen. Sta a te. Det er op til dig. Posso acquistare un biljetto sul busse. Kan jeg købe en biljet i bussen? Ben fatto. Godt gået. Anno esagerato. De gik over gevind. Domani dovrebbe piovere. Dette skulle blive regn i morgen. Temo il peggio. Jeg er i frygta det värste. Che terrible giornata. Sikkert un forfærdelig dag. Sono all ultimo anno. Jeg er på sidste studieår. Che scuola hai frequentato? Hvilken skole gik du på? Questo mi rende triste. Det gør mig ked af det. Amo il teatro. Jeg elsker at gå i teatret. Lavoro per una banca. Jeg arbejder i en bank. Quanti figli hai? Hvor mange børn har du? Per favore. Rimettilo dovera. Vær venlig og læg det tilbage. Mi piace fare jogging. Jeg kan godt lide at jogge. È lontana la banca. Er banken langt herfra? Cosa dovrei indossare? Hvad skal jeg tage på? Dobbiamo riordinare. Vi bliver nødt til at ryde op. Chi guida stasera? Hvem kører i aften? Siamo andati alla stessa università. Vi gik på det samme universitet. Non è serio. Det er ikke slemt. Non sono occupato. Jeg har ikke travlt. Questa sera farà molto freddo. Det blir frost i aften. Abbiamo due maschi. Vi har to drenge. Troppo stress. For meget stress. Dove? Hvor er? Sono in una band. Jeg spiller i et band. I miei sentimenti sono profondi. Jeg har stærke følelser. Abbiamo avuto un incidente. Vi har haft en ulykke. Come si chiama? Hvad hedder han? Perché stai piangendo? Hvorfor græder du? La settimana successiva. Lavoro qui da nove anni. Jeg har arbejdet her i ni år. Hai visto questo film? Har du set denne film? È molto attraente. Han er meget attraktiv. Ho dimenticato l'ombrello. Ja, jeg glemte min paraply. Lui è molto maturo. Han er meget moden. Chi è in carica? Hvem er den ansvarlige? Fa molto freddo. Det er hundekoldt. Sono hebreo. Quando vorresti viaggiare? Hvornår vil du gerne rejse? È stato insolito. Det var unormalt. Sei qui da molto? Har du været her længe? Come va il lavoro? Hvordan går det med arbejdet? Posso accompagnarti a casa a piedi? Skal jeg følge dig hjem? Sono interessato alla cultura. Sei maestrat in Italia? Har du nogensinne været in Italien? A che ora inizia la partita? Hvad tid sendes kampen? Quanto tempo ci vuole in auto? Hvor langtid tager det i bil? Sei arrabbiato? Er du fred? La qualità lasciava a desiderare. Kraliteten var dårlig. Hai un grande sorriso. Du har et fantastisk smil. Come al solito. Det samme som sedvanlig. Ti credo. Jeg tror på dig. Che cosa stai facendo? Hvad er du ude på? Qual è il processo? Hvordan forløber processen? Mandami un'e-mail. Send mig un'e-mail. Sei sposato? Er du gift? Mi piace il tuo senso dell'humorismo. Jeg kan godt lide din humor. Domani. I morgen. Sono in sovrappeso. Jeg er overvægtig. Il tempo è horrible. Været è forfærdeligt. Quanti anni ha lei? Hvor gammel è hun? Solo un minuto. Et ojeblik. L'hai già incontrata? Har du mødt hende? Vivo per conto mio. Jeg bor alene. Non importa. Det betyder ikke noget. Mia figlia è qui. Min datter è her. Vuoi dello zucchero? Brugger du sukkero? Lo sanno tutti. Alle ved det. Lavoro in una fabrica. Ho bisogno di un dottore. Jeg har brug for en lage. Abbiamo molto in comune. Vi har meget til fælles. Si sta facendo tardi. Det er ved at blive sent. Forse. Måske. Quando arriva il prossimo autobus? Hvornår skulle den næste bus komme? Resta concentrato. Hold fokus. L'ho già visto. Jeg har allerede set det. Il mio bagaglio è andato perso. Min bagage è væk. Non mi sento bene. Jeg har det ikke godt. È stato un attacco personale. Det var et personligt angreb. Non ho bisogno di seccature. Non ho bisogno di seccature. Non ho bisogno di seccature. Sono molto impegnato. Il mio amore è infinito. Min kærlighed è uendelig. Che cosa mi consigli? Sono depresso. Sono depresso. Tag dig sammen. Om morgenen. Jeg efterlod den på bordet. I niste uge. Det er en lang weekend. Han er amerikaner. Jeg kan ret godt lide at lave mad. Opfør dig ordentligt. Hans værelse er meget lille. Jeg arbejder meget. Det mangler kreativitet. Jeg tager dig hen i morgen. Jeg har glemt kodeordet. Hvordan går det med forretningen? Jeg er ligeglad. Hvor studerer du? Jeg gik i supermarkedet. Jeg gik i supermarkedet. Hvornår skal vi tage afsted? Det var så lidt. Jeg gider ikke. Han kommer tilbage om 20 minutter. Jeg boede i Kanada i seks måneder. Hans reaktion var umoden. Hun er for tynd. Det kommer an på vejret. Det kommer an på vejret. Har du bestået din køreprøve? Hvor høj er du? Filmen var deprimerende. Døren er låst. Jeg arbejder med computerer. Har du lyst til en drink? L'ho visto accadere. Jeg har så det ske. Quella è una buona scuola. Det er en god skole. Du vej il ristorante più vicino. Hvor er det nærmeste restaurant? È giusto. Det er fair. Ne dubito. Jeg har tvivler på det. È uno status symbol. Det er et status symbol. Puoi tradurmi questo? Vil du oversætte det her for mig? Siamo a corto di fortuna. Vi er ved at lykke tør for hell. Sono troppo stanco. Jeg er for træt. Per quanto possibile. Så meget som mulig. Sono protestante. Jeg er protestant. Non ho scelta. Jeg har ikke nået et valg. Prendo la stessa cosa. Jeg vil gerne bede om det samme. Da qui allì. Fra her til der. Non essere dura. Du skal ikke være hård. Sto studiando storia. Jeg studerer historie. Vivo con la mia compagna. Jeg bor sammen med min kæreste. Che giorno della settimana è? Hvilken ugedag er det? Sono interessato alle lingue. Jeg interesserer mig for sprog. Lavoro nell'editoria. Jeg arbeider i forlagsbranchen. Mi porti a casa. Vil du følge mig hjem? Lavori oggi. Arbeider du i dag? Che tipo di musica ti piace? Hvilken slags musik kan du lide? Non è facile. Det er ikke nemt. L'anno seguente. Det følgende år. Sono vedovo. Jeg er enke. Sono un uomo di buon gusto. Jeg har en god smag. Mi piace molto. Jeg kan rigtig godt lide dig. La notte scorsa. I går aftes. A che ora è successo? Hvad tid skete det? Spero di no. Det håber jeg ikke. Ho bisogno del tuo supporto. Jeg har brug for din støtte. Ieri pomeriggio. I går aftes. I går aftes. Questo è mio figlio. Det è min søn. Cosa fanno i tuoi genitori? Hvad laver dine forældre? Sono disperato. Jeg er disperato. Jeg er disperato. A che ora chiude la cucina? Hvad tid lukker køkkenet? Vorrei una stanza. Jeg vil gerne bede om et værelse. Quando posso rivederti? Hvornår kan jeg se dig igen? L'anno prossimo. Næste år. Questo è tutto. Det è det. È possibile? È possibile? Gli piace molto. Han kan rigtig godt lide det. Ho già pagato. Jeg har allerede betalt. Sono al negozio. Jeg er i butikken. Buon pomeriggio. God eftermiddag. Calmati. Slap af. Sono felice. Jeg er glad. L'annuncio non era corretto. Annuncen var uærlig. È da questa parte. Det er denne vej. Ci vediamo domani. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Sai nuotare? Kan du svømme? Non capisco. Jeg forstår ikke. Sembra che piova. Det ligner regn. Siamo quasi arrivati. Er vi da snart? Sei andato all'università? Har du gået på universitetet? Anche a me. Ho fatto un errore. Jeg begik un fejl. Lui è molto atletico. Han è molto atletico. Sbriggati. Skyndi. È tutto ok? È tutto ok? Che sorpresa. Sicca in overraskelse. Abbiamo bisogno dei bilietti. Vi har brug for biletter. Vai sul ponte. Gå over broen. Questo è il mio amico. Dette er min ven. Questa casa è molto grande. Dette hus er meget stort. È tempo di andare. È tempo di andare. È comodo. È tutto pronto. È tutto pronto. È tutto pronto. Sono un buddista. È un buddista. È un buddista. Mi piacerebbe no leggere una macchina. che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Lei è un imbroglione. È un bedroom. A che ora sei andato a dormire? Vade tid gik du i seng? È stato un pareggio. Det blev uafgjort. È piuttosto lunga a piedi. Det er jeg ganske lang vej til fods. Ho bisogno del tuo consenso. Jeg har brug for din tilladelse. Era eccellente. Det var fremragende. È stato emocionante. Det var spennende. Quale indirizzo stai cercando? Hvilken adresse søger du? È stato un malinteso. Det var en misforståelse. Il risultato è stato negativo. Resultatet var dårligt. È affascinante. Det er fascinerende. Sto facendo uno stage. Jeg er i gang med et praktikophold. Nel giro di una settimana. Om en uges tid. Non ha l'aspetto di un infermiere. Han ligner ikke en sygeplejerske. Cosa sta succedendo? Hvad sker der? Questa è mia madre. Questa è mia madre. La sedia è comoda. Stolen è comfortabel. Sto studiando economia. Jeg studerer economia. Di cosa parla. Hvad betyder det her? Quanto tempo ti fermerai? Dove ho lasciato le chiavi? Hvor lager jeg mine nøgler? Fa freddo fuori. Er det koldt udenfor? Sei bello. Du er smuk. Sono bisexuale. Posso provarlo? Må jeg prøve den på? Resto a casa questa sera. Jeg bliver hjemme i aften. Non è molto lontano. Det è ikke så langt væk. È un regalo. Det è un gave. Lo prometto. Jeg lover det. Le strade sono scivolose. Vejne er glatte. Devo studiare. Jeg bliver nødt til at studere. Il mare è molto agitato. Habet è meget oprørt. A che ora ti sei svegliato? Hvad tid vågnede du? Sono stato licenziato. Ja, jeg er blevet overflødigjort. Tuo figlio è qui? Er din søn her? Mi piacerebbe. Det vil jeg rigtig gerne. Mi manchi. Jeg savner dig. Gjoki a skakki? Spiller du skak? Sei religioso? Er du religiös? Non farlo. Lad være med at gøre det. Hai una fidanzata? Har du en kæreste? A che ora arriverai? Hvad tid ankommer du? Ho bisogno di una sugamano. Jeg har brug for et håndklæde. Portalo fuori. Tag det udenfor. La folla applaudi. Mengden jublede. Sei molto bello. Du er jo meget flot. Ha un'opinione ben definita. Han ha un'opinione ben definita. Han ha un'opinione ben definita. Che sapore ha? Hvordan smerti? Fai qualche sport? Dirker du sport? Vuoi sposarmi? Vil du gifte dig med mig? Er carina. Hun er køn. Mi arrendo. Jeg giver op. Non l'ho toccato. Jeg rørte det ikke. Direcente. Fornyelig. Quanto dura il volo? Hvor lang tid tager flyveturen? Le manca fiducia. Hun mangler selvtillid. Non è qui al momento. Han er ikke til stede lige nu. Come pronunci questa parola? Hvordan udtaler man det ord? Mi piace passare il tempo con te. Jeg kan godt lide at være sammen med dig. Sono innamorato. Jeg er forelsket. Buon rientro a casa. Kom godt hjem. Puoi confirmare la data. Kan du bekræfte datoen? Non mi piacciono i pub. Jeg bryder mig ikke om værtshuse. Fa davvero caldo. Det er meget varmt. Non voglio disturbar ti. Jeg vil ikke forstyrre dig. Sono in vacanza. Jeg er på ferie. Serviti pure. Vær sko og tag. Lavoro nelle vendite. Jeg arbejder i salgsafdelingen. Come ti chiami? Hvad hedder du? Sono venuto con la mia familia. Jeg kom her med min familie. Tutto il giorno. Hele dagen. Quanto costa questo? Hvor meget koster det her? È stato stressante. Det var stressende. Lavoro qui. Dovrai attraversare dei binari. Du kommer til at gå over nogle jernbaneskinner. Ci sono molte persone qui. Der er mange mennesker her. Ne terrò conto. Jeg vil overveje det. Volevo vivere all'estero. Ja, jeg ville gerne bo i udlandet. Abbiamo un sacco di tempo. Vi har masser af tid. È stato fortunato. Det var heldigt. Quanto zucchero vuoi? Hvor meget sukker bruger du? Vieni qui. Kom her. Scusa per il ritardo. Beklager forsinkelsen. Ti trovo bene. Du ser godt ud. Og due sorelle. Jeg har to søstre. In un'ora. Om un'ora. Om un'ora. Jockey a basket. Spiller du basket? Studi inglese. Studerer du engelsk? In che campo lavori? Hvad arbejder du med? Cosa hai detto? Hvad sagde du? Vorresti del vino? Kunne du tænke dig noget vin? Sei arrivato. Er du ankommet? Atenti al cane. Pas på hunden. Ha' una bella macchina. Han har en fin bil. Vai da quella parte. Gå den vej. Accendi il forno. Tæn ovnen. Che c'è che non va? Hvad er der galt? Ha' bisogno di vestiti nuovi. Han har brug for nyt tøj. Canto in un coro. Ja, jeg synger i et cor. La cucina è ancora aperta. Serverer du stadig mad? Ho' già mangiato. Jeg har allerede spist. È troppo tardi. Det è for sent. Deve essere un errore. Det må være un fejltagelse. Lui l'ha tradita. Han var henne utro. È la vita. Sådan è livet. Non lo' mai fatto prima. Det har jeg aldrig gjort før. Calma. Rolig nu. Sto scherzando. Jeg laver bare sjov. Suoni qualche instrumento. Spiller du et instrument? Buonanotte. Godnat. Non dire sciocchette. Lavoro improprio. Jeg arbejder som selvstændig. Posso prendere in prestito la tua penna? Må jeg låne din kuglepinn? Ho' un problema. Jeg har et problem. Sono una casalinga. Jeg er hjemmegående. Ho' trentadue anni. Jeg er trentadue. Un anno fa. For et år siden. Mi sto formando per diventare ingeniere. Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. Questa mattina. I morges. Ho' speso tutto. Jeg har brugt det hele. Dovrei andarmene. Jeg bør gå. Sono un tirocinante. Jeg er praktikant. Qual è il nome della strada? Hvilken gade er det? Per quanti giorni? I hvor mange dage? La mia macchina non si avvia. Min bil vil ikke starte. A presto. Vi ses snart. Dove sei diretto? Hvor flyver du hen? Mi piace meditare. Jeg kan godt lide at meditere. Det var min opfindelse. Allo stesso modo. Lige sådan. Puoi ripetere per favore? Er du sød at gentage det? Quante persone? Quante persone? Hvor mange mennesker? Amo il cinema. Jeg elsker at gå i biografen. Stai bene? Er du okay? Non è durato molto. Det varede ikke længe. Spengi la luce. Slug lyset. Non fumo. Jeg ryger ikke. Era davvero delizioso. Det var lækkert. Piacere di conoscerti. Godt at møde dig. Non ho abbastanza soldi. Jeg har ikke nok penge. Forse. Måske. Ora capisco. Nu forstår jeg. Il libro è sopra il tavolo. Bogen er på bordet. Cosa preferisci? Hvad foretrækker du? Sendo qui. Jeg skal a' her. Accendi l'auto. Start bilen. Posso acquistare un biljetto sul busse? Kan jeg købe en biljet i bussen? Ben fatto. Godt gået. Mi sono scottato. Jeg har brændt mig. Hanno esagerato. De gik overgevind. Domani dovrebbe piovere. Det skulle blive regn i morgen. Temo il peggio. Jeg er frygter det värste. Che terrible giornata. Sikke en forfærdelig dag. Sono all ultimo anno. Jeg er på sidste studieår. Questo mi rende triste. Det gør mig ked af det. Amo il teatro. Jeg elsker at gå i teatret. Quanti figli hai? Hvor mange børn har du? Per favore. Rimettilo dov'era. Vær venlig og læg det tilbage. È lontana la banca. Er banken langt herfra? In due mesi. Om to måneder. Cosa dovrei indossare? Hvad skal jeg tage på? Lavoro in un negozio. Jeg arbejder i en butik. Non è serio. Det er ikke slemt. Non sono occupato. Jeg har ikke travlt. Questa sera farà molto freddo. Det blir frost i aften. Abbiamo due maschi. Vi har to drenge. Quella cosa puzza. Det lugter dårligt. Troppo stress. For meget stress. Dov'è? Hvor er? Sono in una band. Jeg spiller i et band. I miei sentimenti sono profondi. Jeg har stærke følelser. Sono sconvolto. Jeg er oprevet. Abbiamo avuto un incidente. Vi har haft en ulykke. Ho perso il portafoglio. Jeg har mistet min pump. Vieni qui spesso. Kommer du ofte her? Come si chiama? Hvad hedder han? Perché stai piangendo? Hvorfor græder du? La settimana successiva. Denne næste uge. Lavoro qui da nove anni. Jeg har arbejdet her i ni år. Hvorfor stai pensando? Hvad tænker du på? Har du set denne film? Hvad kunne du godt tænke dig? Han er meget attraktiv. Jeg er revisor. Lui è molto maturo. Han er meget moden. Buon compleanno. Tillykke med fødselsdagen. Fa molto freddo. Det er hundekoldt. Sono hebreo. Jeg er jøde. Lei mi piace. Jeg kan godt lide hende. Quando vorresti viaggiare? Hvornår vil du gerne rejse? Sei qui da molto? Har du været her længe? Qual è il suo nome? Hvad hedder hun? Sono interessato alla cultura. Jeg er interesseret i kultur. Sei mai stato in Italia. Har du nogensinne været i Italien? A che ora inizia la partita? Hvad tid sendes kampen? Quanto tempo ci vuole in auto? Hvor lange tid tager det i bil? Sei arrabbiato? Er du vred? Hai un grande sorriso. Du har et fantastisk smil. Come al solito. Det er samme som sedvanlig. Ti credo. Jeg tror på dig. Che cosa stai facendo? Hvad er du ude på? Per quanto tempo ti fermerai? Hvor længe skal du være her? Mandami un e-mail. Send me un e-mail. Domani I morgen Sono in sovrappeso. Jeg er overvegtig. Siamo tutti vincitori. Vi er alle vennere. Quanti anni ha lei? Hvor gammel er hun? Solo un minuto. Et øjeblik. L'hai già incontrata? Har du mødt hende? Non ne vale la pena. Det er ikke det værd. Vivo per conto mio. Jeg bor alene. Non importa. Det betyder ikke noget. Non ho ancora pranzato. Jeg har ikke spist frokost endnu. Ti sto aspettando. Jeg venter på dig. Min datter er her. Voi dello zucchero? Brugger du sukker? Vuoi venire con me? Har du lyst til at tage med mig? Lo sanno tutti. Alle ved det. È complicato. Det er complicat. Lavoro in una fabrica. Jeg arbeider på en fabrik. Non abbiamo molto tempo. Vi er ved at løbe tør for tid. Abbiamo molto in comune. Vi har meget til fælles. Si sta facendo tardi. Det er ved at blive sent. Forse. Måske. Nascondilo. Gem det. Lei è molto energica. Hun è molto energica. Quando arriva il prossimo autobus? Hvornår skulle den næste bus komme? Resta concentrato. Hold fokus. Lo già visto. Jeg har allerede set det. Non mi sento bene. Jeg har det ikke godt. Hai degli animali? Har du nogle kaledyr? Sono molto impegnato. Jeg har meget travlt. Ci penserò. Jeg vil tænke over det. Chiama un' ambulanza. Ring efter en ambulance. Perché non vai? Hvorfor kommer du ikke? Il mio amore è infinito. Min kærlighed è un'endelig. Chiama mi. Ring til mig. Hai figli? Har du børn? Prenderò anche quello. Io tager anche questo. Ci vogliono due ore di auto. Det tager to timer i bil. Gresci. Tag dig sammen. Di mattina. Om morgenen. La prossima settimana. I næste uge. Si tratta di un lungo weekend. Lui è un americano. Han è americano. Mi piace molto cucinare. Ja, jeg kan rett godt lide at lave mad. Mi spiace. Det er jeg ked af at høre. È spuntato il sole. Lavoro moltissimo. Jeg arbejder meget. Manca di creatività. Det mangler kreativitet. Ci vado domani. Jeg tager dig hen i morgen. Ho dimenticato la password. Ho bisogno di concentrarmi. Non mi interessa. Jeg er ligeglad. Dove studi? Hvor studerer du? Sono andato al supermercato. Jeg gik i supermercadet. Cuciniamo insieme. Lad os lave mad sammen. Quando andremo? Hvornår skal vi tage a sted? Prego. Det var så lidt. Lei verrà con me domani. Hun kommer med mig i morgen. Han kommer tilbage om 20 minutter. Ho vissuto in Canada per sei mesi. Jeg boede i Canada i seks måneder. La sua reazione è stata immatura. Hans reaktion var umoden. Depende dal tempo. Det kommer an på vejret. Quanto sei alta? Hvor høj er du? Si tratta di un reality show. Det è un reality show. Il film è stato deprimente. Filmen var deprimerende. La porta è chiusa a chiave. Døren è låst. Io lavoro con i computer. Jeg arbeider med computer. Ti piacerebbe guardare la tv? Har du lyst til at se tv? Il gatto è sotto il tavolo. Katten è under bordet. Quella è una buona scuola. Det è un god scuola. Dove è il ristorante più vicino? Hvor è il ristorante più vicino? È giusto. Det è fai. Faccio volontariato. Jeg arbeider frivilligt. Ne dubito. Jeg tvivler på det. Ti porterò alla fermata dell'autobus. Jeg følger dig til busstoppestedet. L'auto è stata riparata. Bilen è blevet lavet. A dopo. Vi ses senere. Siamo a corto di fortuna. Vi er ved at lukke tør for held. Sono troppo stanco. Jeg er for træt. Sono protestante. Non ho scelta. Jeg har ikke nået val. Prende la stessa cosa. Jeg vil gerne bede om det samme. Da qui allì. Fra her til der. Non essere dura. Du skal ikke være hård. Sto studiando storia. Jeg studerer historie. È corretto. Det er rigtig. È stato bello. Vivo con la mia compagna. Jeg bor sammen med min kæreste. Che giorno della settimana è? Hvilken ugedag er det? Lavoro nell'editoria. Jeg arbeider i forlagsbranchen. Mi porti a casa. Vil du følge mig hjem? Ho una relazione complicata. Jeg er i et kompliceret parforhold. Lavori oggi. Arbeider du i dag? Che tipo di musica ti piace? Hvilken slags musik kan du lide? Non è facile. Det er ikke nemt. L'anno seguente. Det følgende år. Sono vedovo. Jeg er enke. Sono un uomo di buon gusto. Jeg har en god smag. Mi piace molto. Jeg kan rigtig godt lide dig. La notte scorsa. I går aftes. A che ora è successo? Hvad tid skete det? Spero di no. Det håber jeg ikke. L'atmosfera era elettrizzante. Stemmingen var medrivende. Qual è la tariffa? Hvad er gebyret? Ho bisogno del tuo supporto? Jeg har brug for din støtte. Tanto tempo fa? For lang tid siden. Questo è mio figlio. Det è min søn. Cosa fanno i tuoi genitori? Cosa fanno i tuoi genitori? Hvad laver dine forældre? Sono disperato. Jeg er disperato. Vorrei una stanza. Jeg vil gerne bede om et værelse. L'anno prossimo. Næste år. Questo è tutto. Sto studiando un sacco. Jeg studerer meget. Ho già pagato. Jeg har allerede betalt. Mi piace il cibo piccante. Jeg kan godt lide grødret mad. Circa un anno. Omkring et år. Estato pericoloso. Det var farligt. Qual è il tuo indirizzo? Hvad er din adresse? Buon pomeriggio. God eftermiddag. Calma ti. Slap a. Portami la mia camicia, per favore. Vær sød at give mig min skjorte. Sono felice. Jeg er glad. L'annuncio non era corretto. Annuncen var uærlig. È da questa parte. Det è denne vei. Ci vediamo domani. Vi ses i morgen. Sai nuotare? Kan du svømme? Buttalo via. Smid det væk. Sembra che piova. Det ligno regn. Siamo quasi arrivati. Er vi da snart? Sei andato all'università. Har du gået på universitetet? Anche a me. Også a me. Ho fatto un errore. Jeg begik en fejl. Ho mangiato troppo. Jeg spiste for meget. Sbrigati. Skynd dig. Er tutto ok? Er alt ok? Che sorpresa. Sikke en overraskelse. Abbiamo bisogno dei biletti. Vi har brug for biletti. Ti auguro un buon viaggio. Jeg ønsker dig en god tur. Sarà sulla tua destra. Det kommer til at være på din højre side. È tempo di andare. Det er på tider at gå. Sto visitando i parenti. Jeg besøger slægtninge. È scomodo. Det er ubelejligt. È tutto pronto. Alt er klart. Questo era insolito. Det var usadvanligt. Mi piacerebbe noleggiare una macchina. Jeg vil gerne lege en bil. Che cos'è? Hvad er det? A che ora sei andato a dormire? Hvad tid gik du i seng? È stato un pareggio. Det blev uafgjort. È piuttosto lunga a piedi. Det er ganske lang vej til fods. Mi piace la cucina italiana. Jeg kan godt vide det italienske køkken. Sarei venuto. Jeg er ville være kommet. Ho bisogno del tuo consenso. Jeg har brug for din tilladelse. Era eccellente. Det var fremragende. È stato emocionante. Det var spennende. Come lo sai? Hvordan ved du det? Quale indirizzo stai cercando? Hvilken adresse søger du? Il risultato è stato negativo. Resultatet var dårligt. È affascinante. Det er fascinerende. Ho bisogno di arrivare là entro domani. Jeg skal være der senest i morgen. Sto facendo uno stage. Jeg er i gang med et praktikophold. Non ha l'aspetto di un infermiere. Han ligner ikke en sygeplejerske. È lì. Det er der. Cosa sta succedendo? Hvad sker der? Sto studiando economia. Jeg studerer økonomi. Dormi bene. Sov godt. Di cosa parla? Hvad betyder det her? Quanto tempo ti fermerai? Hvor længe bliver du? Dove ho lasciato le chiavi? Hvor lager jeg mine nøgler? Fa freddo fuori. Er det koldt udenfor? Ti trovo benissimo. Du ser godt ud. Sei bello. Du er smuk. Sono bisexuale. Jeg er bisexuale. Posso provarlo? Må jeg prøve den på? Resto a casa questa sera. Jeg bliver hjemme i aften. Non è molto lontano. Det er ikke så langt væk. È un regalo. Det er en gave. Devo studiare. Il mare è molto agitato. Habet è meget oprørt. A che ora ti sei svegliato? Hvad tid vågnede du? Sono stato licenziato. Ja, jeg er blevet overflodiggjort. Tuo figlio è qui? Er din søn her? Mi piacerebbe. Det vil jeg rigtig gerne. Mi manchi. Jeg savner dig. Sei religioso? Er du religiös? Ho bisogno di te. Jeg har brug for dig. Non farlo. Lad være med at gøre det. Hai una fidanzata? Har du en kæreste? La settimana precedente. Den foregående uge. A che ora arriverai? Ho bisogno di un asciugamano. Ho bisogno di un asciugamano. Jeg har brug for et håndklæde. Portalo fuori. Tag det udenfor. Posso usare il telefono? Må jeg låne din telefono? La folla applaudì. Mengden jublede. Sei molto bello. Du ero meget flot. Ha un'opinione ben definita. Han har en stærk mening. Fai qualche sport? Dyrker du sport? Vuoi sposarmi? Vil du gifte dig med mig? Mi arrendo. Jeg giver op. Non lo toccato. Jeg rørte det ikke. Direcente. Fornyelig. Quanto dura il volo? Hvor lang tid tager jeg flyveturen? Le manca fiducia. Hun mangler selvtillid. Non è qui al momento. Han er ikke til stede lige nu. Come pronunci questa parola? Hvordan udtaler man det ord? Stasera. I aften. Quanto ti devo? Hvor meget skyller jeg dig? Buon rientro a casa. Kom godt hjem. Puoi confirmare la data? Kan du bekræfte datoen? C'è stato un cambiamento di opinione. Der var et holdningsskifte. Non mi piacciono i pub. Jeg bryder mig ikke om værtshuse. Fa davvero caldo. Det er meget varmt. Non voglio disturbar ti. Jeg vil ikke forstyrre dig. Sono in vacanza. Jeg er på ferie. Serviti pure. Vær så god at tag. Come ti chiami? Hvad hedder du? Sono venuto con la mia familia. Jeg kom her med min familie. Tutto il giorno. Hele dagen. Quanto costa questo? Hvor meget koster det her? E' stato stressante. Det var stressende. Lavoro qui. Jeg arbeider her. Dovrai attraversare dei binari. Du kommer til at gå over nogle jernbaneskinner. Ci sono molte persone qui. Der er mange mennesker her. Ne terrò conto. Jeg vil overveje det. Volevo vivere all'estero. Jeg ville gerne bo i udlandet. Abbiamo un sacco di tempo. Vi har masser af tid. Così è pratico. Det er praktisk. E' stato fortunato. Det var heldigt. Hai dei cavi di avviamento? Har du et startkabel? Quanto zucchero vuoi? Hvor meget sukker bruger du? Vieni qui. Kom her. Ti trovo bene. Du ser godt ud. Og due sorelle. Jeg har to søstre. In un'ora. Om en time. Gjocchi a basket. Spiller du basket? Studi inglese. Studerer du engelsk? Tieni il resto. Behold byttepengene. Non hanno nulla in comune. De har intet til fælles. Quanto è grave. Og hvor slemt er det? In che campo lavori? Hvad arbeider du med? Cosa hai detto? Hvad sagde du? Vorresti del vino? Kunne du tænke dig noget vin? Sei arrivato. Er du ankommet? Ha una bella macchina. Han har en fin bil. Vai da quella parte. Cosa hai studiato? Hvad studeret du? Ha fatto. Slet ikke. Hai qualche snack? Har du nogen snacks? Ecco il mio codice di prenotazione. Her è mit booking nummer. Sono ambizioso. Jeg er ambitiös. È stato un caso. Det var et tilfælde. Che c'è che non va? Hvad er der galt? Ha bisogno di vestiti nuovi. Han har brug for nyt tøj. La cucina è ancora aperta. Servier du stadig mad? Ho già mangiato. Jeg har allerede spist. Ho il jet lag. Jeg har jet lag. È tempo di riflettere. È troppo tardi. È troppo tardi. È troppo tardi. Grazie mille. Mange tak. Sto scherzando. Jeg laver bare sjov. Sono di buon humore. Suoni qualche strumento? Spiller du et instrument? Non dire sciocchette. Lad være med at evle. Lavoro in proprio. Posso prendere in prestito la tua penna? Må jeg låne din kuglepinn? Cosa hai fatto ieri? Hvad lavede du i går? Sta iniziando a piovere. Det begynner at regne. Ho 32 anni. Jeg er 32. Mi sto formando per diventare ingeniere. Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. Sono un membro di una palestra. Jeg er medlem ad motionscenter. Questa mattina. I morges. Sono un tirocinante. La mia macchina non si abdia. Min bil vil ikke starte. A presto. Vi ses snart. Dove sei direto? Hvor flyver du hen? Mi piace meditare. Jeg kan godt lide at meditere. È stata una mia invenzione. Det var min opfindelse. Puoi ripetere per favore? Er du da sød at gentage det? Quante persone? Hvor mange mennesker? Amo il cinema. Jeg elsker at gå i biografen. Non è durato molto. Det vareret ikke længe. Spenni la luce. Sluk lyset. Non fumo. Jeg ryger ikke. Sono socio di uno studio legale. Jeg er partner i et advokatfirma. Era davvero delizioso. Det var lækkert. Piacere di conoscer ti. Godt at møde dig. Non ho abbastanza soldi. Non ho abbastanza soldi. Non ho abbastanza soldi. Ora capisco. Nu forstår jeg. Cosa fai stasera? Hvad skal du lave i aften? Sono un po fuori allenamento. Jeg er lidt ude af træning. Quali sono le possibilità? Hvad er chancen? Non mollare mai. Giv aldri op. Cosa preferisci? Hvad foretrækker du? Sendo qui. Jeg skal a' her. Accendi l'auto. Start bilen. Posso acquistare un biljetto sul busse. Kan jeg købe en biljet i bussen? Ben fatto. Godt gået. Mi sono scottato. Jeg har brændt mig. Temo il peggio. Jeg frygter det värste. Che terrible giornata. Sikke en forfærdelig dag. Che scuola hai frequentato? Hvilken skole gik du på? Questo mi rende triste. Det gør mig ked af det. Amo il teatro. Jeg elsker at gå i teatret. Lavoro per una banca. Jeg arbejder i en bank. Per favore. Rimetti lo dovera. Vær venlig og læg det tilbage. Mi piace fare jogging. Jeg kan godt lide at jogge. In due mesi. Om to måneder. Cosa dovrei indossare? Hvad skal jeg tage på? Dobbiamo riordinare. Vi bliver nødt til at ryde op. Chi guida stasera? Hvem kører i aften? Siamo andati alla stessa università. Vi gik på det samme universitet. Lavoro in un negozio. Jeg arbejder i en butik. Non è serio. Det er ikke slemt. Non sono occupato. Jeg har ikke travlt. Questa sera farà molto freddo. Det blir frost i aften. Abbiamo due maschi. Vi har to drenge. Dove? Hvor er? Sono in una band. Jeg spiller i et band. I miei sentimenti sono profondi. Jeg har stærke følelser. Sono sconvolto. Jeg er oprevet. Abbiamo avuto un incidente. Vi har haft en ulykke. Com'è andata la riunione? Hvordan gik mødet? Perchè stai piangendo? Hvorfor græder du? Lavoro qui da nove anni. Jeg har arbejdet her i ni år. Har du sett denne film? Har du sett denne film? Che cosa prendi? Hvad kunne du godt tænke dig? È molto attraente. Han er meget attraktiv. Perchè no? Hvorfor ikke? Ho dimenticato l'ombrello. Jeg glemte min paraply. Ci vediamo lì. Vi ses da henne. Faccio il contabile. Lui è molto maturo. Han è meget moden. Chi è in carica? Hvem è den ansvarlige? Sono hebreo. Jeg è jude. Lei mi piace. Jeg kan godt lide henne. Quando vorresti viaggiare? Hvornår vil du gerne rejse? È stato insolito. Det var unormalt. Sei qui da molto? Har du været her længe? Qual è il suo nome? Hvad hedder hun? Posso accompagnarti a casa a piedi? Skal jeg følge dig hjem? Sono interessato alla cultura. Jeg er interesseret i kultur. Sei mai stato in Italia. Har du nogensinne været in Italien? A che ora inizia la partita? Quanto tempo ci vuole in auto? Quanto tempo ci vuole in auto? Krealiteten var dårlig. Hai un grande sorriso. Du har et fantastisk smil. Non dirlo neanche. Come al solito. Di credo. Che cosa stai facendo? Per quanto tempo ti fermerai? Qual è il processo? Qual è il processo? Send mi un'email. Sei sposato? Mi piace il tuo senso dell'humorismo. Sono in sovrappeso. Il tempo è orribile. Quanti anni ha lei? Solo un minuto. L'hai già incontrata? L'hai già incontrata? L'hai già incontrata? Vivo per conto mio. Lo sanno tutti. Alle ved det. Non abbiamo molto tempo. L'ho bisogno di un dottore. Ho bisogno di un dottore. Il mio bagaglio è andato perso. L'ho bisogno di un massaggio. Il mio bagaglio è andato perso. Min bagaglio è andato perso. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Ho bisogno di un pedico. Grazie per l'aiuto. Ci pensi. Grazie per l'aiuto. Sono molto impegnato. Il mio amore è infinito Chiamami In dieci minuti Hai figli? Hai borgon? Che cosa mi consigli? Hvad kan du anbefale? Sono depresso Jeg er deprimeret Prenderò anche quello Jeg tager også den der Ci vogliono due ore di auto Det tager to timer i bil Tag dig sammen Er det nok? I næste uge Mi piace molto cucinare Jeg kan rett godt lide At lave mad Mi spiace Det er jeg ked af at høre Comportati bene Og opføre dig ordentligt E spuntato il sole Solen er kommet frem Lavoro moltissimo Jeg arbejder meget Fai come se fossi A casa tua Lad som om du er hjemme Ci vado domani Jeg tager dig hen i morgen Ho dimenticato la password Jeg har glemt kodeord Non mi interessa Jeg er ligeglad Dove studi? Hvor studerer du? Sono andato al supermercato Jeg gik i supermercato Questa è una zona sicura Er det her et trygt område? Cuciniamo insieme Lad os lave mad sammen Quando andremo? Hvornår skal vi tage afsted? Prego Det var så let Non ne ho voglia Jeg gider ikke Lei verrà con me domani Hun kommer med mig i morgen Turnerà tra 20 minuti Han kommer tilbage om 20 minutter Ho vissuto in Canada per 6 mesi Jeg boede i Canada I seks måneder La sua reazione è stata immatura Hans reaktion var umoden Hai superato l'esame di guida Har du bestået din køreprøve? Quanto sei alta? Hvor høj er du? Si tratta di un reality show Det è un reality show La porta è chiusa a chiave Døren è lost Io lavoro con i computer Ti piacerebbe guardare la tv? Har du lyst til a se tv? Il gatto è sotto il tavolo Katten è under bord Ti andrebbe qualcosa da bere? Har du lyst til en drink? L'ho visto accadere L'ho visto accadere La hai so det ske Quella è una buona scuola Det è un god scuola Dove è il ristorante più vicino? Hvor er det nærmeste restaurant? Ne dubito Jeg har tvivler på det L'auto è stata riparata Bilen è blevet lavet A dopo Vi ses senere È uno status symbol Det er et status symbol Puoi tradurmi questo Vil du oversætte det her for mig? Siamo a corto di fortuna Vi er ved at lukke tør fra hell Sono troppo stanco Jeg er for træt Per quanto possibile So meget som muligt Sono protestante Jeg er protestant Non ho scelta Jeg har ikke nået valg Prende la stessa cosa Jeg vil gerne bede om det samme Da qui al lì Fra her til der Non essere dura Du skal ikke være hård Sto studiando storia Jeg studerer historie È corretto Det er rigtigt È stato bello Det var dejligt Vivo con la mia compagna Jeg bor Jeg bor sammen Med min kæreste Che giorno della settimana È Hvilken ugedag è Sono interessato alle lingue Jeg interesser mig for sprog Lavoro nell'editoria Jeg arbejder i forlagsbranchen Mi porti a casa Vil du følge mig hjem Lavori oggi Arbejder du i dag Che tipo di musica ti piace Hvilken slags musik Kan du lide L'anno seguente Det følgende år Sono vedovo Jeg er enke Sono un uomo di buon gusto Jeg har en god smag Mi piace molto Jeg kan rigtig godt lide dig A che ora è successo? Hvad tid skete det? Spero di no Det håber jeg ikke L'atmosfera era elettrizzante Stemningen var medrivende Qual è la tariffa? Hvad er gebyret? Ho bisogno del tuo supporto Jeg har brug for din støtte Questo è mio figlio Det è min søn Cosa fanno i tuoi genitori? Hvad laver dine forældre? Sono disperato A che ora chiude la cucina? Hvad tid lukker køkkenet? Vorrei una stanza Jeg vil gerne bede om et værelse Non ho rimpianti Quando posso rivederti? Hvornår kan jeg se dig igen? L'anno prossimo Næste år Questo è tutto Det è det È possibile È possibile Gli piace molto Sto studiando un sacco Ho già pagato Ho già pagato È stato pericoloso È stato pericoloso Sono felice Sono felice Jeg er glad L'annuncio Non era corretto Annuncen var uærlig È da questa parte Ci vediamo domani Vi ses i morgen Sembra che piova Det ligner regn Sei andato all'università Har du gått på universitetet? Anche a me Ogse a me Ho fatto un errore Lui è molto atletico Han è molto atletico Sbrigati Skyndi Abbiamo bisogno dei bilietti Vi har brug for biletter Vai sul ponte Gå over broen Questo è il mio amico Dette è min ven Sarà sulla tua destra Det kommer til at være på din højre side È da molto tempo che non ci si vede Lang tid siden È tempo di andare È tempo di andare Det è per tider at gå Sto visitando i parenti Jeg besøger slaggninge È scomodo Det è ubelejligt È tutto pronto Alt è klart Sono un buddista Jeg è buddista Questo era insolito Det var usadvanligt Mi piacerebbe noleggiare una macchina Jeg vil gerne lege En bil Lei è un imbroglione Hun è un bedrager A che ora sei andato a dormire? Hvad tid gik du i seng? È stato un pareggio Det blev uafgjort È piuttosto lunga a piedi Det er ganske lang vej til fods Mi piace la cucina italiana Jeg kan godt lide Det er italienske køkken Sarei venuto Jeg ville være kommet Ho bisogno del tuo consenso Jeg har brug for din tilladelse Era eccellente Det var fremragende È stato emocionante Det var da spennende Quale indirizzo stai cercando? Hvilken adresse søger du? È stato un malinteso Det var en misforståelse Il risultato è stato negativo Resultatet var dårligt È affascinante Det er fascinerende Ho bisogno di arrivare là Entro domani Jeg skal være der senest i morgen Sto facendo uno stage Jeg er i gang med et praktikophold Non ha l'aspetto di un infermiere Han ligner ikke en sygeplejerske È lì Det er der Questa è mia madre Dette è min mor La sedia è comoda Stolen è comfortabel Sto studiando economia Jeg studerer økonomi Dormi bene Sov godt Di cosa parla Hvad betyder det her? Quanto tempo ti fermerai? Hvor længe blir du? Fa freddo fuori Er det koldt udenfor? Ti trovo benissimo Du ser godt ud Sei bello Du er smuk Sono bisexuale Posso provarlo? Må jeg prøve den på? Non è molto lontano Det è ikke så langt væk È un regalo Det è un gave Lo prometto Jeg lover det Le strade sono scivolose Vejene er glatte Il mare è molto agitato Habet è meget oprørt A che ora ti sei svegliato? Hvad tid vågnede du? Sono stato licenziato Non mi importa Jeg har ikke noget imod det Mi piacerebbe Det vil jeg rigtig gerne Mi manchi Jeg savner dig Gjoki a skakki Spiller du skak? Sei religioso? Er du religiøs? Ho bisogno di te Non farlo Lad være med at gøre det A che ora arriverai? Hvad tid ankommer du? Ho bisogno di una sugamano Jeg har brug for Jeg har brug for et håndklæde Porta lo fuori Tag det udenfor La folla applaudi Mængden jublede Sei molto bello Du er meget flot Ha un'opinione ben definita Han ha un'opinione ben definita Han ha un'opinione ben definita Che sapore ha? Hvordan smager det? Fai qualche sport? Dyrker du sport? È carina Hun è køn Mi arrendo Jeg giver op Non l'ho toccato Ja, jeg rørte det ikke Quanto dura il volo? Hvor lang tid tager flyveturen? Le manca fiducia Hun mangler selvtillid Non è qui al momento Han er ikke til stede lige nu È rischioso? È risikabelt? Come pronunci questa parola? Hvordan udtaler man det ord? Stasera I aften Mi piace Passare il tempo con te Jeg kan godt lide Jeg kan godt lide at være sammen med dig Quanto ti devo? Hvor meget skyller jeg dig Sono innamorato Jeg er forelsket Buon rientro a casa Kom godt hjem C'è stato un cambiamento di opinione Der var et holdningsskifte Non mi piaccio noi pub Jeg bryder mig Jeg bryder mig ikke Om værtshuse Fa davvero caldo Det er meget varmt Sono in vacanza Jeg er på ferie Lavoro nelle vendite Jeg arbeider i salgsafdelingen Come ti chiami? Hvad hedder du? Sono venuto con la mia famiglia Tutto il giorno Hele dagen Quanto costa questo? Hvor meget koster det her? Dopo ci sarà un bel film Der bliver sendt en god film senere È stato stressante Det var stressende Lavoro qui Jeg arbeider her Dovrai attraversare dei binari Du kommer til at gå over Nogle jernbaneskinner Ci sono molte persone qui Der er mange mennesker her Ne terrò conto Jeg vil overveje det Volevo vivere all'estero Ja, jeg ville gerne bo i udlandet Abbiamo un sacco di tempo Vi har masser av tid Così è pratico Det er praktisk È stato fortunato Det var heldigt Hai dei cavi di avviamento Har du et startkabel? Dove sei andato a scuola? Hvor kigge du i scuola? Quanto zucchero vuoi? Vieni qui Vieni qui Kom her Scusa per il ritardo Beklare for sickelsen Ti trovo bene Du ser godt ud Og due sorelle Jeg har to søstre Jocchia basket Spiller du basket? Pagherò i biljetti Jeg betaler for biljetterne Studi inglese Studerer du engelsk? Tieni il resto Behold byttepengene Non hanno nulla in comune De har intet til fælles Quanto è grave? Og slemt er det? Vorresti del vino? Kunne du tænke dig noget vin? Sei arrivato? Er du ankommet? Attenti al cane Pas på hunden Ha una bella macchina Han har en fin bil Vai da quella parte Gå den vej Cosa hai studiato? Hvad studerede du? Ha fatto Slet ikke Har du nogen snacks? Sono ambizioso Jeg er ambitiøs Questo non funziona Det her virker ikke È stato un caso Det var et tilfælde Che c'è che non va? Hvad er der galt? Ha bisogno di vestiti nuovi Han har brug for nyt tøj Canto in un coro Jeg synger i et cor La cucina è ancora aperta Serverer du stadig mad? Ho già mangiato Jeg har allerede Jeg har allerede spist Og il jet lag Jeg har jet lag È tempo di riflettere Det er på tide At tænke sig om Che cosa vuoi fare? Hvad har du lyst til Deve essere un errore Det må være En fejltagelse Lui l'ha tradita Han var henne utro Grazie mille Mange tak Fa molto freddo oggi Det er meget koldt i dag Non l'ho mai fatto prima Det har jeg aldrig gjort før Calma Rolig nu Spiller du et instrument? Buonanotte Godnat Non dire sciocchette Lad være med at evle Lavoro in proprio Jeg arbejder som selvstændig Posso prendere in prestito La tua penna? Må jeg låne din kuglepenn? Ho un problema Jeg har et problem Cosa hai fatto ieri? Hvad lavede du i går? Sono una casa linga Jeg er hjemmegående Sta iniziando a piovere Det begynder at regne Ho 32 anni Jeg er 32 Un anno fa For et år siden Mi sto formando per diventare ingegnere Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør Sono smemorato Jeg er glemsom Questa mattina I morges Questo è molto importante Det her è molto importante Sono un tirocinante Jeg er praktikant Qual è il nome della strada? Hvilken gade è det? Per quanti giorni? I hvor mange dage? La mia macchina non si avvia Min bil vil ikke starte Dove sei diretto? Hvor flyver du hen? Tornano subito De kommer tilbage om lidt Il mio orologio è stato rubato Mit ur è blevet stjålet È stata una mia invenzione Det var min opfindelse Allo stesso modo Lige sådan Puoi ripetere per favore? Er du da sød at gentage det? Amo il cinema Jeg elsker at gå i biografen Non è durato molto Det varede Ikke länge Spenni la luce Slå gluset Non fumo Jeg ryger ikke Era davvero delicioso Det var lækkert Non ho abbastanza soldi Jeg har ikke nok penge Forse Forse Måske Ora capisco Nu forstår jeg Il libro è sopra il tavolo Bogen er på bord Sono un po' fuori allenamento Jeg er lidt ude Jeg er lidt ude af træning Quali sono le possibilità? Hvad er chancen? Non mollare mai Giv aldri op Da dove vieni? Hvor kommer du fra? Scendo qui Jeg skal af her Accendi l'auto Start dealen Sta a te Det er op til dig Posso acquistare un biglietto sul bus? Kan jeg købe En billet i bussen? Mi sono scottato Jeg har brændt mig Hanno esagerato De gik over Gevin Demo il peggio Jeg frygter det værste Che terrible giornata Sikke en forfærdelig dag Questo mi rende triste Det gør mig ked af det Amo il teatro Jeg elsker at gå i teatret Lavoro per una banca Jeg arbejder i en bank Per favore Rimetti lo dovera Vær venlig Vær venlig og lægge det tilbage Mi piace fare jogging Jeg kan godt lide at jogge Er banken langt herfra? In due mesi Og om to måneder Cosa dovrei indossare? Hvad skal jeg tage på? Chi guida stasera? Hvem kører i aften? Siamo andati alla stessa università Vi gik på det samme universitet Lavoro in un negozio Jeg arbejder i en butik Non è serio Det er ikke slemt Abbiamo due maschi Vi har to drenge Troppo stress For meget stress Sono in una band Jeg spiller i et band Sono sconvolto Jeg er oprevet Non voglio che Jeg vil ikke have det Come andata la riunione? Hvordan gik mødet? Ho perso il portafoglio Jeg har mistet min pump Vieni qui spesso Kommer du ofte her? Come si chiama? Hvad hedder han? Perché stai piangendo? Hvorfor græder du? Lavoro qui da nove anni Jeg har arbejdet her i ni år A cosa stai pensando? Hvad tænker du på? Che cosa prendi? Hvad kunne du godt tænke dig? Er molto attraente Han er meget attraktiv Perchè no? Hvorfor ikke? Ho dimenticato l'ombrello Jeg glemte min paraply Ci vediamo lì Vi ses da henne Faccio il contabile Jeg er revisor Lui è molto maturo Han er meget moden Chi è in carica? Hvem er den ansvarlige? Fa molto freddo Det er hunne kolt Sono hebreo Jeg er jøde Lei mi piace Jeg kan godt lide henne Quando vorresti viaggiare? Hvornår vil du gerne rejse? È stato insolito Det var unormalt Come va il lavoro? Hvordan går det med arbejdet? Qual è il suo nome? Hvad hedder hun? Posso accompagnarti a casa a piedi? Skal jeg følge dig hjem? Sei maestato in Italia? Har du nogensinne været i Italien? A che ora inizia la partita? Hvad tid sendes kampen? Quanto tempo ci vuole in auto? Hvor langtid tager det i bil? Sei arrabbiato? Er du fred? La qualità laschava a desiderare? Kvaliteten var dårlig Hai un grande sorriso Du har et fantastisk smil Non dirlo neanche Det var så let Come al solito Det er samme som sad vanlig Ti credo Jeg tror på dig Che cosa stai facendo? Hvad er du ude på? Per quanto tempo ti fermerai? Hvor længe skal du være her? Qual è il processo? Hvordan forløber processen? Manda mi un e-mail Send me un e-mail Sei sposato? Er du gift? Mi piace il tuo senso dell'humorismo Jeg kan godt lide din humor Domani I morgen Sono in sovrappeso Jeg er overvægtig Siamo tutti vincitori Vi er alle vinnere Il tempo è horrible Vagret er forfærdeligt Solo un minuto Et øjeblik Vivo per conto mio Jeg bor alene Non importa Det betyder ikke noget Non ho ancora pranzato Jeg har ikke spist frokost endnu Ti sto aspettando Jeg venter på dig Mia figlia è qui? Min datter è her Vuoi dello zucchero? Bruger du sukker? Vuoi venire con me? Har du lyst til at tage med mig? È complicato Det er compliceret Non abbiamo molto tempo Vi er ved at løbe tør for tid Ho bisogno di un dottore Jeg har brug for en læge Abbiamo molto in comune Vi har meget til fælles Si sta facendo tardi Det er ved at blive sent Forse Måske Nascondilo Gemme det Lei è molto energica Hun è molto energica Quando arriva il prossimo autobus? Hvornår skulle den næste bus Resta concentrato Hold fokus L'ho già visto Jeg har allerede set det Ho bisogno di un massaggio Jeg har brug for en massaggio Il mio bagaglio è andato perso Min bagage è væk Non mi sento bene Non ho bisogno di un bass Non ho bisogno di secchi He degli animali Non ho bisogno di secchi Chiama un'ambulanza. Ring efter un'ambulanza. Il mio amore è infinito. Min kærlighed è uendelig. Chiama mi. Ring til me. In dieci minuti. Om ti minuti. Che cosa mi consigli? Hvad kan du anbefale? Sono depresso. Jeg er deprimeret. Prenderò anche quello. Jeg tager også den der. Chi vogliono due ore di auto. Det tager to timer i bil. È abbastanza. È det nok? L'ho lasciato sul tavolo. Jeg har efterlået den på bordet. La prossima settimana. I næste uge. Lui è un americano. Mi piace molto cucinare. Jeg kan rett godt lide at lave mad. La sua stanza è molto piccola. Hans verità è molto piccola. Lavoro moltissimo. Jeg arbeider meget. Manca di creatività. Det mangler kreatività. Fai come se fossi a casa tua. Lad som om du è hjemme. Ci vado domani. Jeg tager hen i morgen. Ho dimenticato la password. Jeg har glemt kodeord. Come vanno gli affari? Hvordan går det med forretningen? Non mi interessa. Jeg er ligeglad. Sono andato al supermercato. Jeg gik i supermercato. Questa è una zona sicura. Er det her et trygt område? Cuciniamo insieme. Lad os lave mad sammen. Quando andremo? Hvornår skal vi tage afsted? Prego. Det var så let. Lei verrà con me domani. Hun kommer med mig i morgen. Turnerà tra 20 minuti. Han kommer tilbage om 20 minuter. Ho vissuto in Canada per sei mesi. Jeg boede i Canada i seks måneder. La sua reazione è stata immatura. Hans reaktion var umoden. Lei è troppo magra. Hun er for tønd. Depende dal tempo. Det kommer an på vejret. Har du bestået din køreprøve? Quanto sei alta? Hvor høj er du? Io lavoro con i computer. Ti piacerebbe guardare la tv? Har du lyst til at se tv? Il gatto è sotto il tavolo. Katten è under bord. Dove è il ristorante più vicino? Hvor è il nærmeste restaurant? È giusto. È giusto. Faccio volontariato. Jeg arbeider frivillig. Ne dubito. Jeg har tvivler på det. L'auto è stata riparata. Bilen er blevet lavet. È uno status symbol. Det er et status symbol. Puoi tradurmi questo. Vil du oversætte det her for mig? Siamo a corto di fortuna. Vi er ved at løbe tør fra hell. Per quanto possibile. Så meget som muligt. Prendo la stessa cosa. Jeg vil gerne bede om det samme. Da qui allì. Fra her til der. Non essere dura. Du skal ikke være hård. Sto studiando storia. Jeg studerer historie. È corretto. Det er rigtig. È stato bello. Det var dejligt. Hvilken ugedag er det? Lavoro nell'editoria. Jeg arbeider i forlagsbranchen. Mi porti a casa. Vil du følge mig hjem? Lavori oggi. Arbeider du i dag? Non è facile. Det er ikke nemt. L'anno seguente. Det følgende år. Sono vedovo. Sono un uomo di buon gusto. Jeg har en god smag. Mi piace molto. Jeg kan rigtig godt lide dig. La notte scorsa. I går aftes. A che ora è successo? Hvad tid skete det? L'atmosfera era elettrizzante. Stemningen var medrivende. Qual è la tariffa? Hvad er gebyret? Tanto tempo fa? For lang tid siden. Ieri pomeriggio. I går eftermiddag. Questo è mio figlio. Det er min søn. Cosa fanno i tuoi genitori? Hvad laver dine forældre? Sono disperato. Jeg er disperato. Vorrei una stanza. Jeg vil gerne bede om et værelse. Non ho rimpianti. Jeg fortryder intet. Quando posso rivederti? Hvornår kan jeg se dig igen? L'anno prossimo. Næste år. Questo è tutto. Det è det. Gli piace molto. Han kan rigtig godt lide det. Sto studiando un sacco. Jeg studerer meget. Circa un anno. Omkring et år. Dove ci incontriamo? Hvor skal vi mødes? È stato pericoloso. Det var farligt. Sono al negozio. Jeg er i butikken. Qual è il tuo indirizzo? Hvad er din adresse? Sono senza lavoro. Jeg har ikke noget arbejde. Buon pomeriggio. God eftermiddag. Calma ti. Slap av. Portami la mia camicia, per favore. Vær sød at give mig min skjorte. Sono felice. L'annuncio non era corretto. Annuncio non era corretto. Annuncio non era corretto. È da questa parte. Det è denne vei. Sai nuotare? Kan du svømme? Buttalo via. Smid det væk. Sembra che piova. Det ligner regn. Siamo quasi arrivati. Er vi da snart? Sei andato all'università. Har du gået på universitetet? Anche a me. Også mig. Lui è molto atletico. Han è molto atletico. Che sorpresa. Sicca in overraskelse. Abbiamo bisogno dei bilietti. Vi har brug for biletter. Vai sul ponte. Gå over broen. Questo è il mio amico. Dette è min ven. Ti auguro un buon viaggio. Io gli auguro un buon viaggio. Sarà sulla tua destra. Det kommer til at være på din højre side. È da molto tempo che non ci si vede. Lang tid siden. Sto visitando i parenti. Io gli auguro un buon viaggio. È scomodo. È tutto pronto. È tutto pronto. È tutto pronto. Sono un buddista. Io è buddista. Questo era insolito. È tutto pronto. Mi piacerebbe no leggere una macchina. Io gli auguro un buon viaggio. Io gli auguro un buon viaggio. Che cos'è? Il si mio sono un buon. Sono uguale anche. Io lui auguro un buon viaggio. Ho bisogno del tuo consenso. Era eccellente. È stato emocionante. Come lo sai? Quale indirizzo stai cercando? È stato un malinteso. Det var en misforståelse. Il risultato è stato negativo. Resultatet var dårligt. È affascinante. Det è affascinerende. Ho bisogno di arrivare là entro domani. Jeg skal være der senest i morgen. Sto facendo uno stage. Jeg er i gang med et praktikophold. Nel giro di una settimana. Om menus tid. Non ha l'aspetto di un infermiere. È lì. È lì. Questa è mia madre. Dette è min mor. La sedia è comoda. Stolen è comfortabel. Sto studiando economia. Jeg studerer economia. Dove ho lasciato le chiavi? Hvor lagger mine nøgler? Ti trovo benissimo. Du ser godt ud. Sei bello. Du er smuk. Posso provarlo? Må jeg prøve den på? Resto a casa questa sera. Jeg bliver hjemme i aften. È un regalo. Det è un gave. Lo prometto. Jeg lover det. Le strade sono scivolose. Vejene er glatte. Il mare è molto agitato. Habet è meget oprørt. A che ora ti sei svegliato? Hvad tid vågnede du? Non mi importa. Jeg har ikke noget imod det. Tuo figlio è qui? Er din søn her? Mi manchi. Jeg savner dig. Giochi a scacchi? Spiller du scacchi? Sei religioso? Er du religiös? Ho bisogno di te. Jeg har brug for dig. Non farlo. Lad være med at gøre det. Il piatto è caldo. Salerno è varm. Hai una fidanzata? Har du un kæreste? A che ora arriverai? Hvad tid ankommer du? Ho bisogno di una sugamano. Io ho bisogno di un kæreste? La folla applaudì. Mèngden jublede. Che sapore ha? Hvordan smager det? Fai qualche sport? Diorco du sport? Vuoi sposarmi? Vil du gifte dig med mig? È carina. Hun è køn. Mi arrendo. Jeg giver op. Di recente. Fornyelig. Quanto dura il volo? Hvor lang tid tager flyveturen? Le manca fiducia. Hun mangler selvtillid. Come pronunci questa parola? Hvordan udtaler man det ord? Mi piace passare il tempo con te. Jeg kan godt lide at være sammen med dig. Quanto ti devo? Hvor meget skyller jeg dig? Sono innamorato. Jeg er forelsket. Buon rientro a casa. Kom godt hjem. Puoi confirmare la data? Kan du bekræfte datoen? C'è stato un cambiamento di opinione. Der var et holdningsskifte. Non mi piaccio noi pub. Non voglio disturba ti. Jag vill ikka forstyrre dig. Sono in vacanza. Serviti pure. Lavoro nelle vendite. Come ti chiami? Tutto il giorno. Quanto costa questo? Hvor meget costa questo? Dopo ci sarà un bel film. Da blir sendt un bel film senere. È stato stressante. Det var stressante. Lavoro qui. Jeg arbeider her. Dovrai attraversare dei binari. Du kommer til at gå over nogle jernbaneskinner. Ne terrò conto. Jeg vil overveje det. Volevo vivere all'estero. Jeg ville gerne bo i udlandet. È stato fortunato. Dove sei andato a scuola? Hvor kiggede du i scuola? Quanto zucchero vuoi? Hvor meget zuccher bruger du? Scusa per il ritardo. Beklager for sickelsen. Ho due sorelle. Pagherò i bilietti. Jeg betaler for bilietterne. Tieni il resto. Behold byttepengene. Non hanno nulla in comune. De har intet til fælles. In che campo lavori? Hvad arbeider du med? Cosa hai detto? Hvad sagde du? Vorresti del vino? Kunne du tænke dig noget vin? Sei arrivato? Er du ankommet? Attenti al cane. Pas på hunden. Ha una bella macchina. Han har en fin bil. Vai da quella parte. Gå den vej. Accendi il forno. Tæn ovnen. Cosa hai studiato? Hvad studerede du? Ha fatto? Slet ikke. Hai qualche snack? Har du nogen snacks? Ecco il mio codice di prenotazione. Her er mit booking nummer. Che 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 non va? Hvad er da galt? Ha bisogno di vestiti nuovi. Han har brug for nyt tøj. Che cosa vuoi fare? Hvad har du lyst til at lave? È troppo tardi. Det è for sent. Deve essere un errore. Det må være en fejltagelse. Lui l'ha tradita. Han var henne utro. Grazie mille. Mange tak Spiller du et instrument? Buonanotte Godennat Lad et være med at evle Lavoro in proprio Jeg arbejder som selvstendig Posso prendere in prestito la tua penna? Må jeg låne din kuglepenn? Og un problema Jeg har et problem Sono una casalinga Jeg er hjemmegående Det begynder at regne Og 32 anni Jeg er 32 Un anno fa For et år siden Mi sto formando per diventare ingeniere Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør Sono smemorato Jeg er glemsom Questo è molto importante Det her er meget vigtigt Sono un tirocinante Jeg er praktikant Qual è il nome della strada? Hvilken gade er det? Per quanti giorni? I hvor mange dage? La mia macchina non si avvia Min bil vil ikke starte Dove sei diretto? Hvor flyver du hen? Mi piace meditare Jeg kan godt lide Jeg kan godt lide At meditere Torna no subito De kommer tilbage om lidt Det var min opfindelse Puoi ripetere Per favore Er du da sød At gentagge det? Quante persone? Hvor mange mennesker? Amo il cinema Jeg elsker At gå i biografen Stai bene Er du okay? Non è durato molto Det varerde Ikke længe Non ti preoccupare Det skal du Ikke bekymre dig om Spengi la luce Slok lyset Non fumo Jeg ryger ikke Sono socio Di uno studio legale Jeg er partner I et advokatfirma Era davvero delizioso Det var lækkert Piacere di conoscer ti Godt at møde dig Non ho abbastanza soldi Jeg har ikke nok penge Forse Måske Ora capisco Nu forstår jeg Il libro è sopra il tavolo Bogen er på bordet Sono un po fuori allenamento Jeg er lidt ude Af træning Non molare mai Giv aldri op Cosa preferisci Hvad foretrækker du? Sendo qui Jeg skal af her Sta a te Det er op til dig Ben fatto Godt gået Mi sono scottato Jeg har brændt mig Hanno esagerato De gik over gevind Domani dovrebbe piovere Det skulle blive regn Demo il peggio Jeg er frygta Det värste Che terribile giornata Sikke en forfærdelig dag Sono all ultimo anno Jeg er på sidste studieår Che scuola hai freqentato? Hvilken skole gik du på? Amo il teatro Jeg elsker at gå i teatret Quanti figli hai? Hvor mange børn har du? Per favore Rimettilo dov'era Vær venlig Og lægge det tilbage È lontana la banca Er banken langt herfra? Cosa dovrei indossare? Hvad skal jeg ta på? Chi guida stasera? Hvem kører i aften? Siamo andati alla stessa università Vi gik på det samme universitet Non è serio Non sono occupato Questa sera farà molto freddo Det blir frost i aften Abbiamo due maschi Vi har to drenge Troppo stress For meget stress Dov'è? Hvor er? Sono in una band Jeg spiller i et band I miei sentimenti sono profondi Jeg har stærke følelser Sono sconvolto Jeg er oprevet Non voglio che Jeg vil ikke have det Abbiamo avuto un incidente Vi har haft en ulykke Come andata la riunione? Hvordan gik mødet? Ho perso il portafoglio Jeg har mistet min punkt Come si chiama? Hvad hedder han? Perché stai piangendo? Hvorfor græder du? La settimana successiva Den næste uge Lavoro qui da nove anni Jeg har arbejdet her I ni år Hvad tænker du på? Hvad kunne du godt tænke dig? Han er meget attraktiv Hvorfor ikke? Ho dimenticato l'ombrello Ja, jeg glemte min paraply Ci vediamo li Vi ses da henne Faccio il contabile Jeg er revisor Lui è molto maturo Han er meget moden Buon compleanno Tillykke med fødselsdagen Fa molto freddo Det er hundekoldt Sono hebreo Jeg er jøde Lei mi piace Jeg kan godt lide henne Quando vorresti viaggiare? Hvornår vil du gerne rejse? È stato insolito Det var unormalt Hvordan går det med arbejdet? Qual è il suo nome? Hvad hedder hun? Posso accompagnarti a casa a piedi? Skal jeg følge dig hjem? Sono interessato alla cultura Jeg er interesseret i kultur Sei mai stato in Italia Quanto tempo ci vuole in auto? Hvor lang tid tager det i bil? Sei arrabbiato? Er du fred? La qualità lasciava a desiderare Kvaliteten var dårlig Come al solito Det er det samme som sedvanlig Che cosa stai facendo? Hvad er du ude på? Per quanto tempo ti fermerai? Hvor længe skal du være her? Qual è il processo? Hvordan forløber processen? Manda mi un'email Send mig un'email Mi piace il tuo senso dell'humorismo Jeg kan godt lide din humor Domani I morgen Sono in sovrappeso Jeg er overvægtig Siamo tutti vincitori Vi er alle venner Il tempo è horribile Været è forfærdeligt Quanti anni ha lei? Hvor gammel è hun? L'hai già incontrata? Har du mødt hende? Non ne vale la pena Det er ikke det værd Vivo per conto mio Jeg bor alene Non importa Det betyder ikke noget Ti sto aspettando Jeg venter på dig Min datter er her Brugger du sukker? Har du lyst til at tage med mig? Lo sanno tutti Alle ved det Lavoro in una fabrica Jeg arbeider på en fabrik Ho bisogno di un dottore Jeg har brug for en læge Forse Måske Nascondilo Gem det Lei è molto energica Hun er meget energisk L'ho già visto Jeg har allerede set det Il mio bagaglio è andato perso Min bagage er væk Non mi sento bene Jeg har det ikke godt Det var et personligt angreb Har du nogle kæledyr? Grazie per l'aiuto Tak for din hjælp Sono molto impegnato Jeg har meget travlt Ci penserò Jeg vil tænke over det Perchè non vai? Hvorfor kommer du ikke? Chiamami Ring til mig Che cosa mi consigli? Hvad kan du anbefale? Sono depresso Jeg er deprimeret Ci vogliono due ore di auto Det tager to timer Sono a casa Jeg er hjemme Jeg er hjemme Cresci Tag dig sammen Di mattina Om morgenen È abbastanza L'ho lasciato sul tavolo La prossima settimana I næste uge Si tratta di un lungo weekend Det er en lang weekend Lui è un americano Mi piace molto cucinare Mi piace molto cucinare Jeg kan rett godt lide At lave mad Mi spiace Det er jeg ked af At høre È spuntato il sole Solen è kommet frem La sua stanza è molto piccola Hans værelse è molto lille Lavoro moltissimo Jeg arbeider meget Manca di creatività Det mangler kreativitet Fai come se fossi a casa tua Lad som om du er hjemme Ci vado domani Jeg tager dig hen i morgen Ho dimenticato la password Jeg har glemt kodeordet Come vanno gli affari Hvordan går det med forretningen? Ho bisogno di concentrarmi Jeg bliver nødt til At koncentrere mig Non mi interessa Jeg er ligeglad Dove studi? Hvor studerer du? Sono andato al supermercato Jeg gik i supermercato Questa è una zona sicura Er det her et trygt område? Cuciniamo insieme Lad os lave mad sammen Quando andremo? Hvornår skal vi tage afsted? Non ne ho voglia Jeg gider ikke Turnera tra 20 minuti Han kommer tilbage om 20 minutter Ho vissuto in Canada per 6 mesi Jeg boede i Canada Jeg boede i Canada i 6 måneder La sua reazione è stata immatura Hans reaktion var umoden Lei è troppo magra Hun er for tønd Depende dal tempo Det kommer an på vejret Quanto sei alta? Hvor høj er du? Si tratta di un reality show Det er et reality show Il film è stato deprimente Filmen var deprimerende Mi aspetto Jeg forventer Io lavoro con i computer Jeg arbeider med computer Ti piacerebbe guardare la tv? Har du lyst til at se tv? Il gatto è sotto il tavolo Katten è sotto bordet L'ho visto accadere La sua det ske Quella è una buona scuola Det è un god scuola Dove è il ristorante più vicino? Hvor è il ristorante più vicino? Nedubito Ti porterò alla fermata dell'autobus Jeg følger dig til busstoppestedet L'auto è stata riparata Bilen er blevet lavet A dopo Vi ses senere È uno status symbol Det er et status symbol Puoi tradurmi questo Vil du oversætte det her for mig? Siamo a corto di fortuna Vi è ved Vi er ved at lukke tør fra hell Per quanto possibile Per quanto possibile Non ho scuola Non ho scuola Non ho scuola Jeg har ikke nået et val Prendo la stessa cosa Jeg vil gerne bede Jeg vil gerne bede om det samme Da qui a lì Fra her Fra her til der Non essere dura Du skal ikke være hård Sto studiando storia Jeg studerer historie È corretto Det er rigtig È stato bello Det var dejligt Vivo con la mia compagna Jeg bor sammen med min kæreste Che giorno della settimana è? Hvilken ugedag er det? Sono interessato alle lingue Jeg interesser mig for sprog Lavoro nell'editoria Jeg arbeider i forlagsbranchen Mi porti a casa Vil du følge mig hjem? Ho una relazione complicata Jeg er i et compliceret parforhold Hvilken slags musik kan du lide? L'anno seguente Det følgende år Sono vedovo Jeg er enke Mi piace molto Jeg kan rigtig godt lide dig La notte scorsa I går aftes L'atmosfera era elettrizante Stemningen var medribende Ho bisogno del tuo supporto Jeg har brug for din støtte Tanto tempo fa For lang tid siden Hieri pomeriggio I går eftermiddags Hvad laver dine forældre? Sono disperato Jeg er desperat A che ora chiude la cucina? Hvad tid lukker køkkenet? Vorrei una stanza Jeg vil gerne bede om et værelse Quando posso rivederti? Hvornår kan jeg se dig igen? L'anno prossimo Næste år Questo è tutto Det er det È possibile Er det muligt? Gli piace molto Han kan rigtig godt lide det Sto studiando un sacco Jeg studerer meget Ho già pagato Jeg har allerede betalt Mi piace il cibo piccante Jeg kan godt lide krødret mad Dove ci incontriamo? Hvor skal vi mødes? È stato pericoloso Det var farligt Sono al negozio Jeg er i butikken Qual è il tuo indirizzo? Hvad er din adresse? Sono senza lavoro Jeg har ikke noget arbejde Buon pomeriggio God eftermiddag Calma ti Slap af Portami la mia camicia Per favore Vær sød At give mig min skjorte È da questa parte Det er denne vej Ci vediamo domani Vi ses i morgen Butta lo via Smid det veck Non capisco Jeg forstår ikke Sembra che piova Det ligner regn Siamo quasi arrivati Er vi da snart? Sei andato all'università Har du gået på universitetet? Ho fatto un errore Ho mangiato troppo Jeg spiste for meget Lui è molto atletico Han è molto atletico Sbrigati Skynd dig È tutto ok? È alt ok? Che sorpresa Sikke en overraskelse Abbiamo bisogno dei bilietti Vi har brug for biletter Vai sul ponte Gå over broen Questo è il mio amico Dette er min ven Sarà sulla tua destra Det kommer til at være På din højre side È da molto tempo Che non ci si vede Lang tid siden Sto visitando i parenti Jeg besøger slaggninge È scomodo Det è ubelejligt Sono un buddista Jeg er buddhist Questo era insolito Det var usadvanligt Mi piacerebbe Noleggiare una macchina Jeg vil gerne lege En bil Che cos'è? Hvad è det? A che ora sei andato a dormire? Hvad tid gik du i seng? È stato un pareggio Det blev uafgjort Mi piace la cucina italiana Jeg kan godt lide Det italienske køkken Sarei venuto Jeg ville være kommet Ho bisogno del tuo consenso Jeg har brug for din tilladelse Era eccellente Det var fremragende Quale indirizzo stai cercando? Hvilken adresse søger du? È stato un malinteso Det var en misforståelse Il risultato è stato negativo Resultatet var dårligt È affascinante Det er fascinerende Sto facendo uno stage Jeg er i gang med et praktikophold Nel giro di una settimana Om en uges tid Non ha l'aspetto di un infermiere Han ligner ikke en sygeplejerske È li Det er der Cosa sta succedendo? Hvad sker der? Sto studiando economia Jeg studerer økonomi Dormi bene Sov godt Di cosa parla Hvad betyder det her? Quanto tempo ti fermerai? Hvor længe bliver du? Dove ho lasciato le chiavi? Hvor lager jeg mine nøgler? Fa freddo fuori Er det koldt udenfor? Ti trovo benissimo Du ser godt ud Sei bello Du er smuk Sono bisexuale Jeg er bisexuel Posso provarlo? Må jeg prøve den på? Resto a casa questa sera Jeg bliver hjemme i aften Non è molto lontano Det er ikke så langt væk È un regalo Det er en gave Lo prometto Jeg lover det Le strade sono schibolose Vejne er glatte Devo studiare Jeg bliver nødt til at studere Il mare è molto agitato Habet er meget oprørt A che ora ti sei svegliato? Hvad tid vågnede du? Mi piacerebbe Det vil jeg rigtig gerne Mi manchi Jeg savner dig Joki a skakki Spiller du skak? Sei religioso? Er du religiøs? Ho bisogno di te Jeg har brug for dig Non farlo Lad være med at gøre det Il piatto è caldo Il piatto è caldo Il piatto è caldo Tallergen è varm La settimana precedente Den foregående uge A che ora arriverai? Hvad tid ankommer du? Ho bisogno di una sugamano Jeg har brug for et håndklæde Porta lo fuori Tag det udenfor Posso usare il telefono? Må jeg låne din telefon? La folla applaudì Mængden jublede Sei molto bello Du er meget flot Che sapore ha? Hvordan smerter? Fai qualche sport? Dirker du sport? Vuoi sposarmi? Vil du gifte dig med mig? È carina Hun è køn Non l'ho toccato Ja, jeg rørte det ikke Di recente For nylig Quanto dura il volo? Hvor lang tid tager flyveturen? Le manca fiducia Hun mangler selvtillid Non è qui al momento Han er ikke til stede lige nu È rischioso? È risikabelt? Come pronunci questa parola? Hvordan udtaler man det ord? Mi piace Passare il tempo con te Jeg kan godt lide At være sammen med dig Quanto ti devo? Hvor meget skylder jeg dig?